La Galleria di Nardo presenta la mostra anime di Max Gasparini, artista bresciano che usa come supporto lamiera ossidata, iuta, cartone, tutti i materiali riciclati, ritraendo visi di donne sognanti, espressioni femminili con i loro sguardi attraenti. Il tutto dipinto con grande padronanza della tecnica e del supporto, dando un'anima all'opera. La mostra è stata inaugurata il 5 aprile alle ore 18 con la presenza dell'artista e si proterrà fino al 19 aprile. Le opere sono a disposizione del pubblico presso la Galleria di Nardo in via Benedetto Croce a Chietiscalo. Gli orari di apertura dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19 e 30. Grazie a tutti.